Tanto un'esclusiva che Luitri alle 8.30 ha fermato il Sora con un pareggio. Stanno giocando altre squadre in contemporanea, vi aggiorneremo dopo nel corso di questo fine primo tempo. 26.55 arriva la testa di Fabiano De Gasperis che svetta più in alto di tutti e è andata in una situazione molto defilata. Incrocia uno spiolente sul secondo palo da scavalocare Leonardo Ruggeri che può solo vedere il pallone entrare in rete. Per l'1-0 dei padroni di casa che sbloccano la gara al 27.00 circa. 1-0 per Arce sul lavorato.